E' uno dei più grandi misteri dell'umanità che, se risolto definitivamente, potrebbe dare delle risposte che toglierebbero ogni dubbio su chi siamo e dove andremo una volta finita la nostra esperienza terrena. Il mistero della Sindone è là, esposto a Torino, sotto gli occhi di tutti, di migliaia di pellegrini che si inginocchiano e pregano davanti a quell'immagine. La Sindone non è soltanto un lenzuolo di lino, lungo poco più di 4 metri e largo poco più di uno. L'importanza e il mistero della Sindone, dal greco sindon, che significa appunto lenzuolo da sepolcro, stanno tutti in quell'immagine di un corpo martoriato da una flagellazione e crocifisso, con i segni della passione e della morte che sono troppo coincidenti con i segni della passione e della morte di Cristo. No, non è un dipinto, non è un'immagine riprodotta virtualmente, non è un disegno di natura extraterrestre. È un'immagine nitida, che lascia senza parole, che attira a sé, lasciando interdetti chi non crede e ancora rafforzati nella fede chi è credente. A poco servono le analisi al carbonio 14, alle quali il telo è stato sottoposto negli anni. La risposta che ne è arrivata è chiara. La datazione potrebbe essere intorno all'anno 1000, ma qualche dubbio c'è ancora su quella che è la datazione giusta, che potrebbe anche essere di mille anni prima. Secondo la tradizione cristiana, è l'impronta lasciata dal Cristo al momento della risurrezione. Il fascio di luce che ha accecato i soldati romani, posti di guardia al sepolcro, è stato talmente forte da lasciare quell'impronta, quell'immagine di un corpo ancora morto, ma in procinto di risorgere. E' questo il grande mistero che avvolge la sindone. Se quel corpo fosse quello di Gesù Cristo, cadrebbero tutte le altre religioni. Null'altro avrebbe più senso. E' più di un miracolo, dunque. Perché il miracolo è soggettivo, mentre l'immagine dell'uomo della sindone è universale. Un segno tangibile messo a disposizione della fede. A vedere la sindone arrivano fedeli da tutto il mondo, chilometri e chilometri, per sostare tre minuti davanti a quell'immagine, che è un'immagine di sofferenza e di dolore, ma soprattutto di speranza.